Dal prossimo 3 novembre le lezioni all'Università degli Studi di Bari saranno in presenza anche oltre il limite di capienza del 50% fissato dall'enorme anticontagio. Novità anche per esami e sessioni di laurea. Alba Di Palo. Dal prossimo 3 novembre le lezioni nell'Università di Bari riprenderanno in presenza anche oltre la capienza del 50% ma sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio. Lo rende noto l'Ateneo spiegando che l'accesso a tutti gli spazi, laboratori, biblioteche, aule studio e dipartimenti sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di Green Pass o tampone molecolare negativo effettuato nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti o con idonea certificazione di esenzione della vaccinazione. Resta l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti universitari fatta a eccezione per i soggetti che abbiano patologie incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione attestate però con idonea certificazione medica e all'interno degli edifici raccomandato il mantenimento della distanza di sicurezza. L'accesso alle aule avverrà previa prenotazione attraverso l'app Prenota Uniba e nel caso in cui il numero delle prenotazioni fosse superiore alle postazioni disponibili sarà garantita la possibilità di seguire da remoto. Gli esami di profitto orale scritti e tirocini continueranno a svolgersi in presenza. Alle sedute di laurea potranno invece accedere non più tre ma sette ospiti per ciascun laureando.